buongiorno a tutti i nostri video ascoltatori di italia medievale del nostro canale youtube oggi ho un particolare piacere nell'avere nostro ospite io non posso che definirlo un grandissimo amico ma devi definirmi un grandissimo anche perché dire tutto quello che ha fatto e che fa staremmo qui per tutta la puntata invece ci limitiamo a dire che ha appena pubblicato col mulino un interessante volume dal titolo autunno il tempo del ritorno sono 276 pagine per solo 16 euro quindi un prezzo che vale assolutamente l'acquisto e dopo aver sentito cosa ci racconta l'autore che alessandro vanoli credo che correrete in libreria ad acquistarlo quindi io non rubo altro tempo al mio amico vanoli e a te la parola e parlaci dell'autunno allora grazie grazie morizio e sono sono davvero contento di essere qua con te questa cosa del fare tutto virtuale ai suoi vantaggi inevitabilmente rende più facile il vedersi naturalmente gli svantaggi sono di più obiettivamente sono 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 quelli della 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 lontananza del fatto che in fondo siamo abituati ogni tanto a incontrarci di persone magari ad abbracciarci pure cosa che ci stiamo un po troppo dimenticando e via dicendo beh speriamo che duri poco ancora questa faccenda perché io personalmente non ne posso più detto questo io i miei libri non ne possiamo più perché non è divertente uscire in lockdown più o meno concreto più o meno reale più o meno nazionale è già il secondo libro che mi esce in lockdown faccio più andare avanti così a fare le presentazioni su zoom su google cosa io ho bisogno di tornare di tornare in giro scusate lo sfogo eh sì perché in realtà eh in quest'anno era previsto che sarebbero usciti due libri di questa quadrillogia che sto dedicando alle stagioni e cioè primavera e autunno eh chi ci guarda può fare facilmente i conti per i fatti suoi e capire come si siano trovati bene questi due libri il primo è uscito più o meno in in concomitanza con l'inizio del lockdown di marzo e il secondo beh il secondo è qui adesso poverino a fare quello che può in un momento in un momento abbastanza complesso ancora complesso e però però l'autunno e le stagioni continuano ad esserci anche indipendentemente dalle pandemie fortunatamente quindi tanto vale parlarne anzi tanto vale parlarne perché in realtà sono la stessa cosa cioè eh credo che potrebbe avere un senso ragionarci come se fosse parte del stesso problema perché in fondo lo è cioè il nostro problema con la natura è un problema complicato oggi e la pandemia ce l'ha fatto vedere in maniera ancora più plateale cioè eh noi non siamo eh particolarmente attrezzati per capire come come dobbiamo interagire con la natura l'abbiamo dimenticato non ce lo ricordiamo più molte cose che una volta forse percepivamo come parte di un enorme meccanismo di cui noi eh eravamo un ingranaggio beh adesso adesso ci sembra qualcosa di esterno qualcosa che non ha a che vedere con noi questo vale naturalmente per le pandemie è ovvio le pandemie sono sempre state percepite le epidemie sono sempre state percepite come una una sciagura una una uno strano meccanismo del fatto eccetera però adesso mai come adesso mostrano la nostra la nostra debolezza il fatto che noi si sia lontani da tutto questo la le stagioni sono un po' la stessa cosa se c'è un tratto distintivo poi arriva l'autunno eh non preoccupatevi però se c'è un tratto distintivo delle stagioni e del nostro giocare con le stagioni vivere con le stagioni credo che sia proprio il fatto che eh noi ne sentiamo in qualche maniera nostalgia eh è una nostalgia evidente e facile perché spesso e volentieri per chi ha qualche anno in più è la nostalgia dell'infanzia cioè del modo che avevamo di di vedere il mondo con stupore quando eravamo bambini però credo che ci sia una nostalgia un po' più profonda che è quella legata di fatto a appunto a questo rapporto in parte perduto con la natura cioè non sentirci parte di questo meccanismo e non sentire che il risveglio fa parte della primavera e parte di noi così come il il ritornare lo spegnersi nel senso migliore del termine fa parte dell'autunno e fa parte anche di noi cioè dell'invecchiare ad esempio ecco questo tipo di cose tutto sommato fa bene ricordarcelo proprio per questa lontananza che percepiamo che sentiamo può servire allora forse tornare alla storia delle eh delle stagioni per ricordarci quali sono le radici per ricordarci quali sono eh il i nostri punti di partenza per ricordarci qual è stato inizialmente semmai c'è stato davvero un inizio poi per la verità il nostro rapporto con la natura e credo eh a fare un po' di storia delle stagioni ormai me ne sono convinto più che eh più che supporlo e basta che di fatto in realtà eh malgrado tutto malgrado quanto si sia diventati aridi e tecnologici in realtà questo rapporto non è mai stato perso completamente anche la nostalgia che proviamo né in qualche maniera un sintomo del fatto che è ancora lì che è ancora è una delle nostre possibilità di fatto e quindi alla fine dei conti il riflettere su noi e la natura credo possa essere un buon modo per trovare una strada trovare una possibilità non dico di ritorno a un mondo originario che probabilmente non è mai esistito però a nuovi compromessi possibili questo sì quindi tutto questo per dire che l'autunno di fatto è un buon banco di prova per giocare a queste cose ho un'altra premessa necessaria questo è un saggio sì possiamo anche definirlo così però è un saggio dove dove ho fatto quello che penso spero di saper fare decentemente bene cioè raccontare molto la storia soprattutto perché ero convinto del fatto che proprio per questa natura particolare del dell'argomento per questa necessità di ritrovare una sorta di comunione con l'argomento trattato la natura il clima le stagioni appunto e bisognasse anche giocare sull'aspetto più evidentemente sentimentale sulle nostre emozioni e quindi questa patina voluta di racconto che ha tutto quanto il libro beh insomma fa parte un po del del come so fare io i libri alla fine dei conti ma è anche un po quasi una necessità secondo me in questo caso cioè le stagioni in qualche modo lo richiedevano e quindi è una storia alla fine dei conti lo si mette nello scaffale dove si vuole si può mettere tranquillamente tra i saggi lo si può mettere tra i romanzi a me non frega nulla perché tutto sommato non era il mio problema ecco e non volevo che lo fosse anche da parte dei lettori vorrei che fosse percepito come un saggio che è un racconto fine ecco punto basta di cosa parla questo racconto come gli altri quelli che hanno preceduto cioè inverno e primavera parla del nostro rapporto con le stagioni sì perché quando fai una storia delle stagioni tieni conto del del dettato originario del dello statuto dello storico cioè ci si occupa dell'uomo nel tempo e quindi del trucco è quello di cercare eh ogni elemento che abbia messo in gioco questo rapporto durante durante i secoli e quindi facile ovviamente il punto di partenza cioè il nostro rapporto con il cambiamento e con la terra perché soprattutto nelle nelle attività agricole ad esempio che si vede questa questa storia delle stagioni in atto oppure anche nelle attività di di pastorizia cioè ad esempio la transumanza è un meccanismo che è dettato dal dai cambiamenti stagionali che ci che obbligavano gli antichi pastori del neolitico a spostare a in alto in basso gli armenti per per le ovvie necessità il calore e del dell'estate i rigori dell'inverno ecco questi primi punti di partenza sono quelli a cui si guarda inevitabilmente per costruire questa storia e si imparano un sacco di cose adesso naturalmente io sono ospite di una di un contesto medievale però di fatto in realtà è chiaro che un argomento come come questo esola e esonda pardon eh ampiamente dal dallo stretto limite cronologico e quindi inevitabilmente sono costretto a dire che in antico l'autunno almeno per quello che riusciamo a leggere dalle fonti beh l'autunno era un autunno molto diverso da quello che vediamo noi oggi noi associamo l'autunno a un momento relativamente malinconico buio già freddo cioè un preannuncio dell'inverno sostanzialmente lo tendiamo a vederlo molto più così oggi in realtà invece no gli antichi vuol dire i greci e i romani lo guardavano in realtà come la punta terminale dell'estate e cioè dell'autunno notavano i frutti maturi la pienezza eh e anche il calore inevitabilmente era un autunno settembrino insomma mettiamola così quello che loro notavano non c'era neanche una parola precisa per definirlo all'inizio poi la parola c'è stata opera in greco quello vuol dire l'autunno di fatto ed è un autunno che ha delle delle caratteristiche femminili e delle caratteristiche abbastanza esplicite riguardo a ciò che fa cioè è l'abbondanza porta i frutti maturi su un vassoio molto spesso la vediamo così raffigurata magari di fianco a Dioniso che fa parte del 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 corteo e dell'insieme generale in cui e con cui si può pensare questa stagione insomma l'autunno è il momento del della della felicità di un'estate che è arrivata alla fine che dà i suoi frutti migliori il vino su tutti e quindi questa storia del vino si lega inevitabilmente all'autunno ecco vedete che cominciamo a metterci dei pezzi il vino i frutti queste questi elementi sono sono lì proprio e rimarranno lì in una maniera in una maniera forte e tangibile poi naturalmente ci sono ci sono altre altre cose ma potremmo già cominciare a fermarci lì da una parte cioè i frutti e la vendemmia e dall'altra naturalmente la transumanza anche se la transumanza in realtà non esiste con con le caratteristiche che noi le diamo oggi o perlomeno che nei secoli appunto medievali si sono si sono definiti in realtà all'inizio è molto più difficile stabilire cosa sia stata davvero ma certo sappiamo anche da tracce archeologiche ben più antiche di quelle delle civiltà di cui stiamo parlando che gli spostamenti chiamiamoli così per convenzione a valle o a monte beh quelli avvenivano in maniera in maniera convinta e chiara sono cose che risalgono perlomeno inevitabilmente agli inizi del neolitico da quando cioè cominciano ad apparire un po ovunque per l'europa capre pecore quelle cose che servono trasportare a valle e a monte ogni volta che cambia il clima dovendo invece volendo invece avvicinarmi di più al medioevo beh ci sono ci sono alcune continuità e alcune inevitabili discontinuità uno perché è chiaro beh questo lo sappiamo tutti è chiaro che il medioevo è una convenzione mille anni sono troppi per per misurare tutto quello che accade in un contesto del genere tanto vale cominciare il campo cioè dire tanto per cominciare parliamo d'europa cosa non irrilevante perché altro altro problema che si ha quando si parla delle stagioni e che bisogna scegliere luoghi del mondo dove le stagioni sono visibili cioè dove il cambiamento climatico è tangibile già se ne parli parlando del deserto è molto più complicato non che non esista però in realtà di fatto diventa una cosa diventa una cosa diversa ecco perlomeno quindi stiamo almeno nello spazio climatico temperato che conosciamo meglio e quei mille anni vogliono dire tutto e niente perché all'inizio in realtà eh beh ne sappiamo poco ovviamente di del come viene gestita la cosa e possiamo supporre dalle poche tracce che ci rimangono che c'è una che ci sia una continuità abbastanza evidente con il passato remoto di cui parlavamo prima e cioè la grande tradizione romana e la grande eh tradizione che lega eh l'autunno a un'idea fondamentalmente estiva beh continua ancora e le tracce sono di tanti tipi a cominciare da quelle eh da quelle che poi il cristianesimo eredita Gesù dice di sé io sono la vera vite e questa assonanza e consonanza con il con il vino e con la vendemmia sarà una cosa che permetterà di traghettare nella tradizione cristiana anche anche le tracce del culto di Dioniso tra le tante cose possibili e questo è una cosa che vediamo nei bassorilievi delle tombe lo vediamo in maniera estremamente articolata nei primi secoli del medioevo poi ci sono invece cose molto più molto più terrene ma altrettanto tangibili perché l'autunno non è fatto solo di frutti maturi e succosi è fatto di frutti maturi e invece anche di colori diversi ma importantissimi se c'è un elemento ad esempio che segna la storia dell'autunno e si lega profondamente alle trasformazioni della civiltà medievale è la castagna la castagna è uno degli elementi che più facilmente connota quel periodo che noi conosciamo bene che sta attorno al mille mille cento quando cioè la popolazione europea comincia di nuovo a rifiorire per numeri anche e per espansione e questa espansione fa sì che molta gente esca i sondi dalle città e cominci anche a desondare nelle campagne e nelle colline vicine e questa è questa cosa che noi vediamo in maniera tangibile nella nelle trasformazioni nel del del dello dello spazio a greste cioè gente che comincia a tagliare a runcare a e a disboscare parti eh parti importanti delle colline vicine alle città eccetera beh questa gente ha bisogno di mangiare e da quelle parti la castagna diventa l'elemento forte su cui si fonda una un'economia che diventerà l'economia per quelle per quelle zone ed è interessante perché di fatto in realtà le quell'economia anzi scusatemi quell'albero quel frutto eh non è scontato che si trovi in quei luoghi adesso noi ce ne andiamo in giro per boschi dalle parti dalle mie amatissime parti della della penino toschio miliano ad esempio eh e godiamo dei eh dei boschi di castagna eh e quando ci cammini in mezzo ti sembra che siano lì da sempre anzi parti dal presupposto che siano lì da sempre no invece probabilmente prima del mille due non c'erano perché i boschi di castagno eh esondano grazie all'uomo quasi tutti i boschi del mondo anche quelli più di dei luoghi più impervi in realtà sono frutto di una cooperazione perlomeno fortemente legata alla presenza umana anche dove non ti aspetti che gli uomini ci siano una volta forse sono passati e sono stati lì a sufficienza per cambiare un po' il volto di quei boschi un luogo che sia priva privo completamente di una di una sua eh presenza eh o di un di un o di un atto antropico ecco nel nel mondo non è facilissimo trovarlo e certo è quasi impossibile trovarlo nell'apennino toschio miliano quello che c'è lì è frutto di di secoli di cooperazione tra la natura e di eh e di interazione tra la natura e l'uomo insomma quei boschi di castagno sono lì a ricordarci una civiltà che è stata eh il punto eh e lo snodo per le possibilità di espansione della della popolazione in quei secoli perché parlare di civiltà della castagna non lo faccio io in realtà l'hanno fatto gli storici nel degli ultimi degli ultimi decenni eh non è assolutamente improprio perché quelle popolazioni con la castagna facevano di tutto c'era il legno che serviva per tantissime cose c'erano i fiori di castagno che alimentavano eh il miele delle api vicine c'era naturalmente la castagna che poteva essere consumata in modi più i più disparati come farina come frutto maturo eccetera eccetera la castagna per un bel pezzo verrà considerata tra l'altro una cosa da da contadini non a caso dai cittadini che la guardano con un po' di snobismo però poi la mangiano perché sappiamo che poi nei mercati eh del delle delle pianure le castagne arrivano ne come e venivano anche consumate anche se per molto tempo la cosa rimarrà abbastanza dubbia cioè nel senso che non sarà questo cibo particolarmente celebrato eh cibi celebrati probabilmente potrebbe essere un bel filo rosso con cui continuare a legare la nostra storia ma non vorrei tediare il pubblico però insomma se volessimo continuare a tenere la barra su queste cose potremmo tranquillamente rivolgerci ai funghi però prima di farlo permettetemi una riflessione generale e cioè mh se c'è una cosa che ci lega vorrei stare su questo argomento medievale in senso lato perlomeno non fosse altro che per che per gentilezza nei confronti dell'ospite e quindi io devo devo cercare di medievaleggiare un po' di più ed evitare di parlare di di cose autunnali che esondano troppo beh in realtà eh al di là dell'aspetto dell'aspetto dell'agricoltura eh l'autunno eh e il medioevo vanno assieme per tanti altri altri fattori quello della festa inevitabilmente e qui arriviamo a un forte cavallo di battaglia le feste autunnali eh in realtà non sono numerosissime agli inizi del medioevo eh non ci sono feste soprattutto dei morti ci sono alcune feste di santi eh San Martino ma la festa dei morti che è quella che adesso è per antonomasi forse la festa autunnale beh di fatto in realtà non esiste e questa invece è una storia molto medievale perché ha a che vedere con non con i celti come normalmente si pensa in questi casi perché di fatto in realtà a rigore di fonti dico solamente questo a rigore di fonti in realtà eh le fonti celtiche che in realtà sono un po' complesse poi dopo da da andare a a squadernare perché in parte sono fonti latine tarde che parlano di centi in parte sono fonti latine antiche che parlano di centi quelle di quelle dei romani ad esempio in parte sono fonti rivisitate in volgare eh di natura celtica forse però in realtà sono fonti medievali insomma tutte da da decritare ecco per tanti versi eh beh insomma tutte queste fonti di quella festa che incidentalmente normalmente va sotto il nome a seconda delle zone chiamiamola per convenzione Samain eh beh e di quella festa parlano ogni tanto ma non ma mai come festa dei morti c'è una bella bibliografia su queste cose ormai ed è molto interessante perché è una festa di fine d'anno che non ha neanche una collocazione a quanto sembra geografia ehm perdona ehm calendariale precisissima cioè non è eh non è su un giorno solo è probabilmente spalmata su una settimana su un periodo leggermente più lungo di festeggiamenti beh però parla di fuochi parla di 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 festeggiamenti di varia natura ma non parla di morti la festa dei morti non c'è la prima volta che vediamo una festa dei morti in realtà è ad opera dei monaci di Cluny cioè è precisamente nel 1030 è la prima volta in cui viene istituita accanto ad ogni santi che è una festa che ha trovato già una collocazione calendariale invece più precisa eh questa festa dedicata ai defunti che precedentemente si lega probabilmente alla fe alle alle necessità di culto dei martiri degli dei martiri sconosciuti ma di tante altre cose in realtà eh discorso lungo è anche molto complicato e probabilmente anche fumoso perché ci ci mancano troppi pezzi per poterlo definire chiaramente ma il punto d'arrivo invece è chiaro a quel momento di festa dei morti poi non è che la vediamo sempre con chiarezza perché anche quello è un problema e cioè di fatto il storico lavora con quello che c'ha e cioè con le fonti che gli sono rimaste non è che sia sempre facilissimo perché non ce ne sono così tante soprattutto mancano le fonti che ti permettono di dire che cosa davvero si facesse in quella festa cioè cosa cosa come 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 ci si comportava quel giorno la gente comune cosa faceva andava messa ovvio per forza andava sempre ma non è quello l'aspetto cosa facevano attorno lo riusciamo a vedere in maniera abbastanza definita solamente nel cinquecento nel cinquecento invece abbiamo fonti a sufficienza che ci raccontano un sacco di cose soprattutto per l'Europa del nord anche se sappiamo che accadeva già un sacco di cose anche nell'Europa del sud cioè da noi in Italia in Spagna eccetera si festeggiamenti per i morti avevano ormai delle loro tradizioni ma nel nord invece le vediamo con molta più chiarezza queste tradizioni cioè la preparazione di dolci qualche strano rito più familiare o più o più cittadino magari per esorcizzare cose che attorno ai morti potevano accadere cioè demoni spiriti quant'altro eccetera insomma non è proprio il risorcizzare la paura però ecco però cominciamo a vedere delle forme delle forme abbastanza simili poi naturalmente conosciamo anche il nome di questa festa cioè ogni santi o perlomeno la sera di ogni santi all hello e quella che diventerà poi dopo halloween però quel di quel nome quello vuol dire ecco sostanzialmente ed è una festa familiare sociale cittadina molto diffusa in Inghilterra eh in Germania nel nord in generale e quant'altro e questa cosa poi prende delle connotazioni le più varie perché ci sono le 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 inevitabili fratture che avvengono con la la riforma protestante eh che segnano un punto di 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 discontinuità ecco in questa festa alcuni la mantengono altri la condannano però di fatto in realtà questa festa continua ad alimentare abitudini si danno dolcetti si fanno dolcetti e e si mandano bambini in giro per le strade a chiedere cose anche i mendicanti vanno in giro a chiedere cose per halloween bello ricordo non lo dico io e lo ricorda shakespeare eh per cui a dire quanto in realtà questa cosa ormai abbia già una sua tradizione e poi niente poi il tutto arriva in america l'america è il grande frullatore della nostra cultura e quello che ha trasformato quasi la maggior parte delle delle tradizioni antiche in nuove modalità ma senza tradire niente semplicemente sono quelle persone che sono andate in america e tornando si sono portate un prodotto nuovo e però di fatto in realtà antico è successo per tutto è successo anche per la pasta è una storia bellissima quella della pasta italiana che ha bisogno dell'america per essere per essere definita nei modi e nei criteri che oggi conosciamo ehm magari ve la racconto un'altra volta però se vale per la pasta potete immaginare quanto valga per il natale e per halloween naturalmente quando arrivano i protestanti ehm scozi e i cattolici perché vale per entrambe le fazioni ehm che vengono dalla scozia che vengono dall'irlanda che vengono dall'Irlanda che vengono dall'Inghilterra in america sono obbligati a trasformarsi in ehm in o meglio o per meglio dire in america sono obbligati a pensare in maniera ancora più forte la propria tradizione a ripensare la propria tradizione per non perderla l'America come qualsiasi luogo dove sei altrove ti obbliga a eh sentirti più scozzese degli scozzesi più irlandese degli irlandesi più inglese degli inglesi questa questa necessità di affermare la propria identità poi naturalmente lo faranno così anche gli italiani in secoli diversi ma eh sulle feste si sente moltissimo e halloween ritorna ad essere poco alla volta nell'ottocento una festa importante perché segna la eh il bisogno di eh non perdere le proprie radici e quindi quando ti sforzi di non perdere le proprie radici normalmente diventi più realista del re e cioè fai una festa che è ancora più festa di quella che celebravi a casa tua e il risultato finale è quello che conosciamo o in realtà anche quello lì vuol dire è vero e cioè ci sono irlandesi che hanno questa memoria vaga della loro identità celtica a cui adesso però tengono tantissimo e quindi riversano questa invenzione della tradizione perché di fatto è anche quello nella nelle feste che eh che loro eh che loro seguono poi si inventano delle cose perché l'America ti obbliga ad inventare delle cose questo è essendo un paese fondato in maniera forte sul commercio e sul mercato il modo che ha per far vedere che gli piace una cosa e metterla in vendita e comprarla molto spesso e il risultato finale che anche halloween diventa una festa commerciale negli Stati Uniti attorno all'ottocento e e c'è qualcuno che sul New York Times scrive al negli anni settanta dell'ottocento ah i bei tempi quando halloween era halloween mica come adesso ed era gli anni settanta dell'ottocento non era ancora quando si lamentava sto tizio non erano ancora state inventate la pratica di dolcetto e scherzetto e non era ancora stato inventato neanche Jack o Lantern che nella sua forma un po' più pop è quello che adesso vive con me qua e ecco tutto questo per dire che in realtà le cose sono molto più complicate di quello che pensiamo e non è un'americanata certo nella sua forma sì come come Babbo Natale è un'americanata eh come Happy Days è un'americanata ovvio però poi ci giriamo con i giubbotti di pelle no cioè non vuol dire niente è la complicatezza della mescolanza che fa la differenza non c'è una festa pura non c'è mai stata una festa pura ci sono commistioni che per secoli continuano a girare per il mondo e a mettere pezzi ovunque in giro delle tra le cose ehm e se volete con tre continuare con gli esempi perché è una cosa qui tengo molto in realtà trovo che sia molto superficiale cioè pensarci eh depositari di una qualsivoglia purezza e non non è vero neanche per la pasta come dicevo prima eh anzi già che ci siamo ve lo dico cioè senza la possibilità di inventarsi una pasta secca che regga è un viaggio transo eh transoceanico e senza la possibilità di inventarci un pomodoro che possa stare dentro una scatola e che regga un viaggio transoceanico noi la pasta con la pomarola nel barattolo e con la eh pasta che deve stare a bollire per circa dieci minuti a seconda del tipo di 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 pasta che si è scelto noi ce la scordiamo ce la scordavamo c'è stato bisogno degli Stati Uniti ed è la domanda sempre più crescente degli immigrati americani che volevano dimostrare quanto fossero italiani davanti ai protestanti che non ha mai saputo far da mangiare c'è stato bisogno di tutto questo per riuscire a inventarci la pasta col pomodoro quindi insomma prima di parlare di tradizione detto tutto questo la questione dell'autunno ovviamente ci trascinerebbe per altri vivi tutti quanti altrettanto medievali obiettivamente l'autunno è melanconico ad esempio oggi noi diciamo e ovviamente in questo mettiamo tutto quello che l'ottocento ci ha portato con noi cioè questo progressivo spostamento della stagione dalla fine dell'estate all'inizio dell'inverno così come noi oggi la percepiamo molto di più e la percepiamo così per tanti motivi che sarebbe francamente lungo raccontarvi perché poco alla volta il senso della del buio ad esempio è diventato rilevante probabilmente lo è diventato proprio perché noi abbiamo cominciato a vincerlo il buio dal cinquecento in poi ad esempio banalmente con l'illuminazione stradale e in realtà non è solamente questo ci sono giustificazioni e spiegazioni di carattere sociale antropologico di varia natura però la malinconia è un tema antico di fatto in realtà che poco alla volta si insinua nell'autunno il dubbio che l'autunno fosse probabilmente una stagione dove si rischiasse di più su quel piano beh è un dubbio antico perché malinconia che altro non vuol dire che umore nero prendendo paro paro letteralmente il termine dal greco è una delle caratteristiche classiche della medicina umorale cioè quella che ci vede divisi in quattro umori e corrispondenti in maniera complessa a quello che ci circonda quattro elementi e via dicendo l'umore nero cresce tendenzialmente secondo una dottrina che che in realtà poggia i piedi già in ipocrate e poi viene sviluppata da galeno e dagli altri cresce durante l'inverno con l'umidità e quant'altro e questo umore nero porta tra le sue tra i suoi rischi quello di ad esempio quello di trascinarci in una serie di stati pericolosi quali quelli che oggi chiamiamo depressione ma in realtà una serie di stati che possono portare sino alla pazzia e quindi anche delle forme addirittura suicidiani è un grande classico della della medicina e della psicologia antica psicologia un termine improprio per parlare delle cose antiche ma non importa la malinconia comincia a designarsi dunque come elemento pericolosamente autunnale già in antico la scuola medica salernitana già ne parla e poi poco alla volta proprio più la stagione comincia a conformarsi con le caratteristiche che oggi noi le riconosciamo più questa malinconia diventa evidente nel cinquecento durer fotografa questa cosa ecco questo questo è il classico invito a maurizio a metterci una bella immagine di malinconia uno che è un classico della delle delle stampe cinquecentesche in realtà del dell'arte dell'arte mondiale tanto tanto importante ecco fotografa e il termine sbagliato inciderà invece è giusto perché lo farà col bulino incidera questa immagine eternando una serie di caratteristiche cioè quella della quella di un di un essere dominato appunto da questi sentimenti di che potremmo definire forse sbagliando un po di depressione di fronte a un cosmo che non riesce a stringere e proprio in tutto questo in questa complessità che qui non posso ovviamente discutere troppo perché sennò ci perdiamo in rivoli anche sbagliati alla fine dei conti con quello che dobbiamo dire ehm in questa in questa complessità si c'era poi tra l'altro una fortuna dell'immagine che arriva dritta dritta sino a noi perché quella di questo di questo essere a lato nella raffigurazione di Jurer che che guarda questa questa eh questo caos cosmico che ha sotto gli occhi e che non riesce a dominare col col suo intelletto perlomeno si sforza di dominare col suo intelletto poggia la mano in questa maniera in maniera ombrosa spidando quasi le cose che ha sotto gli occhi e questa e questa postura rimarrà classica nella maggior parte degli intellettuali sino ad oggi o perlomeno di quelli che si atteggiano ad intellettuali cioè non c'è persona che abbia scritto un libro che non abbia una foto di lui posto così eh con con aria pensierosa a mostrare la complessità del mondo che lui si sforza di dominare purtroppo ce l'ho anch'io un'immagine fatta così e circola in giro è inevitabile tutti quanti sono purtroppo eh purtroppo eh legati a queste a queste a queste immagini antiche che 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 superano la nostra volontà sono stavo per dire odio il termine archetipo per tantissimi motivi mai come in questo caso mi veniva da mi veniva da utilizzarlo però insomma ehm adesso adesso per un pochino manterrò eh manterrò la postura in questo modo però dovrei avere una faccia più eh più melanconica e cioè più cupa in realtà ehm bisogna avere la faccia come cioè il vero melanconico eh è colui che che non solo poggia la mano così ma che soffre per tutto questo e questa questo tipo di sofferenza beh insomma no stavo per citare un paio di persone ma non lo farò no ci sono un paio di scrittori che proprio hanno hanno in questo poi normalmente si mettono il il quelli quei cogli alti perché in realtà in tutto questo anche il filo rosso che che si potrebbe portare fino in fondo è anche quello di un certo tipo di esistenzialismo di idea dell'intellettuale che arriva dritta 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 fino ai giorni nostri ma sarebbe un discorso troppo lungo e non lo voglio fare in questo caso no invece bisogna finire in qualche maniera abbiamo toccato argomenti troppo disparati l'uno con l'altro e dare l'idea che invece tutto questo abbia un suo senso ehm e il e o perlomeno che abbia una sua coerenza narrativa cosa poi a cui tengo ancora di più in realtà perché la storia della dell'autunno così come l'ho immaginato come lo voluto come ho voluto immaginarne il racconto di pezzi interni non sono immaginati sono semplicemente raccolti e studiati nei limiti che si poteva dare a un lavoro del genere ehm voleva essere una sorta di di racconto di viaggio ho pensato che se dovessi se dovevo scrivere una una storia di 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 questa stagione forse la cosa migliore era quella di darle il passo il ritmo di un di un cammino di ritorno per tutta una serie di motivi uno perché pochi perché forse l'autunno è la stagione che più ci colloca all'interno degli spazi degli spazi incontaminati il bosco appunto ecco eh non fosse altro che ce lo fa vedere nella sua luce più più bella più commovente cioè quando le foglie perdono la pigmentazione verde riassumono questi questi colori a volte a volte impressionanti rossi gialli eccetera e quindi essere in un bosco in autunno è come essere a casa in qualche maniera sembra il posto migliore forse è retorico certo me ne rendo conto però è probabilmente una delle sensazioni che io collego più facilmente l'autunno e da un altro lato c'è il fatto che noi ci rispecchiamo come dicevo all'inizio le stagioni è inevitabile in fondo c'è una tendenza che è già antica eh in questo senso io dicevo all'inizio che i greci vedevano nell'autunno soprattutto il frutto maturo dell'estate è vero però non ovviamente non erano ciechi non lo collegavano direttamente all'autunno ma vedevano le foglie cadere e anche se non erano autunnali quella caduta delle foglie aveva già molto a che vedere con con la vita umana lo dice Omero per primo eh come le foglie gli uomini sostanzialmente e anche se appunto non era tecnicamente un tema autunnale però di fatto poco alla volta lo diventerà però vi ragioni perché accade in quella stagione accade in quel momento e più noi vediamo in quella stagione quella cosa quell'accadimento cioè il il colorarsi delle foglie il cadere delle foglie beh più evidentemente le due cose si saldano assieme la caducità delle foglie la nostra caducità diventerà uno dei temi classici della eh del del parallelismo tra le stagioni e l'uomo e è quel tema che arriva dritto dritto sino a un garetti l'unica poesia che tutti quanti possiamo vantarci di sapere a memoria no anzi non la cito neanche fate voi e questo tema omerico potremmo anche dire ma che in realtà è appannaggio di tutti di chiunque probabilmente alzi gli occhi a un verso verso le fronte di un albero e veda le foglie staccarsi di fatto ecco questa idea e questo legame profondo credo che ci sia tra il nostro ritmo e il ritmo della natura era quello che mi sembrava ragionevole mettere anche all'interno di una storia del genere e cioè dunque raccontarla come una storia di ritorno di ritorno a casa e di ritorno alla fine di un viaggio che è quello della vita cioè ci sono dei momenti in cui si eh si percepisce questa questa questo ritmo ecco la primavera tutto l'entusiasmo della 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 giovinezza l'irrequietezza l'ardore la passione eccetera la primavera è fatta così l'estate è la pienezza in qualche maniera è la maturità e l'autunno è l'avviarsi verso una stagione che quella invernale che è il il vero ritmo della vita e quindi per questo mi sembrava avesse senso raccontarlo davvero come un cammino di ritorno dove in realtà oltre a questo si raccontano tante altre cose cioè si raccontano delle storie come nella migliore tradizione dei cammini di pellegrinaggio da chiusere in poi eh quando si va in giro la cosa migliore è raccontarsi storie in questo caso storie storie sull'autunno e il ritmo di queste storie racconta anche un'altra storia all'interno una storia più vasta cioè una storia di trasformazione come dicevo prima con cui finisco e cioè il fatto che l'autunno in tutte le stagioni eh a seconda delle culture a seconda dei tempi eh diversi e delle geografie diverse hanno avuto volti diversi così quel volto antico che noi vediamo a stento adesso perlomeno vediamo meno quello della del dei frutti maturi che certo che conosciamo benissimo ma del dell'idea estiva dell'autunno poco a poco alla volta lascia il passo a un autunno più apparentemente più mesto più melanconico ma anche più colorato quello delle foglie quello della della commozione di fronte a uno spettacolo naturale di 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 fine ciclo ecco e alle alle piogge alla nebbia ecco questo questo ritmo e questo senso dell'autunno forse mi viene da pensare è stato il nostro e naturalmente è una questione culturale prima ancora che naturale perché impariamo a pensarle così le cose l'abbiamo imparato da quando eravamo bambini da quando la maestra ci faceva raccogliere le foglie e metterle incollate sul quaderno poi vi ricordate che fregatura era perché quando le raccoglievi erano bellissime erano rosso fuoco giallo vivo eccetera poi quando riaprivi il quaderno erano tutte marroncine è il vero è il vero senso dell'autunno probabilmente la vera fregatura che si cela nella consunzione delle cose ma indipendentemente da questo è lì che noi impariamo forse a vedere una stagione con gli occhi che la cultura in cui viviamo ci dice di di guardare e naturalmente per chi ha i nostri anni l'autunno ha inevitabilmente anche i toni della nebbia probabilmente non è più così la commozione che possiamo provare guardando a marcordo di fellini nelle scene in cui si mostra il uno dei protagonisti perso completamente in una classica nebbia romagnola beh è chiaro che è una commozione con solo nostra io non credo che mia figlia abbia idea di cosa sia la nebbia quella serie per lo meno per cui probabilmente ecco già inevitabilmente per ragioni di di cambio di passo temporale alcune alcuni elementi si si perderanno e verranno sostituiti da altri perché se c'è una lezione che si impara dalla storia delle stagioni e che non c'è nulla di definitivo ed è probabilmente forse una delle lezioni più interessanti che si fa e che si impara a fare a fare storia cioè noi siamo il frutto dei cambiamenti siamo il frutto di progressive continue trasformazioni di sovrapposizioni di cose dove nulla davvero in realtà si distrugge è una lezione molto naturale questa in realtà ed è una lezione che ci dà tanto la biologia quanto la fisica con con formule diverse e però lo si vede bene anche in storia non si distrugge niente rimangono lì i pezzi del passato si trasformano cambiano assumono nuovi volti ma neanche troppo differenti se li sa se li si sa guardare bene prendono su di sé altri significati ancora mh e sommando tutto questo si ripresentano noi con volti apparentemente nuovi ma in questo gioco la parte interessante è scoprire che il nostro legame col passato anche quando pensiamo che che sia ormai perso per colpa del mercato per colpa dell'aridità del mondo in cui viviamo e tutte queste altre queste altre formule francamente retoriche inevitabilmente retoriche perché se c'è una cosa che insegna la storia che tutti si sono sempre lamentati del presente guardando alla bellezza del passato che si immaginavano loro ma non era perché il passato era bello e perché loro erano giovani tutto qua che è una cosa un po' diversa ecco guardando tutto questo insomma viene da sperare per il meglio non fosse altro che ci sarà qualcuno che tra 30 40 anni volgendosi indietro agli autunni della sua giovinezza dirà ecco sì allora sì che che l'autunno era ancora l'autunno quando era ancora tutto così caldo e sereno quando non si vedevano nebbio perché magari saranno tornate ma quando si festeggiava halloween come dio comandava grazie alessandro guarda io starai le giornate intere ad ascoltarti ma devo ricordare ai nostri video ascoltatori di correre in libreria ad acquistare il tuo libro prima che arrivi l'inverno e non potrete più psicologicamente farlo esattamente quindi ricordo il titolo autunno il tempo del ritorno di alessandro vanoli appena pubblicato dal mulino 276 pagine a soli 16 euro quindi proprio una cosa assolutamente imperdibile ringrazio tantissimo alessandro vanoli di essere stato con noi di averci regolato questa emozionante narrazione e spero di rivederti il prima possibile in presenza e tornare ai tempi in cui eravamo abituati anche ad abbracciarci grazie ancora di tutto alessandro grazie a te l'alizzo a presto grazie suolendo grazie a te l'alizzo a te l'alizzo a te l'alizzoCalificato grazie a te l'alizzo nella testa